Senti che silenzio, si sente solo il torrente, in lontananza, in lontananza, sono le due e mezza del mattino, e cosa ci fai nel bosco a due mezza del mattino, domanda? Cappuccetto rosa, stiamo andando a fare un po' di notturne, un po' di riprese di notte, ad ascoltare qualche suono del bosco, esatto, andiamo allora. Ecco qua, la notte in Valle Argentina. 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 La notte in Valle Argentina.